spiderman legendary scale eccola qua finalmente come mi hanno detto qua in side show ci sono voluti ben due anni di lavoro per realizzare questa statua l'abito è tutto in tessuto quindi dalla dita dei piedi fino apparentemente al piede quindi proprio è customizzato per la posa della statua molto molto bello piccato vederlo dietro questa vetrina che fa un po giochi di riflessi poi posso garantire che diorama anche bellina guardate con la mano che posa dove c'è un pezzo di ragnatela dovrebbe non so se c'era dentro anche quella parte quel tipo schienare chiederemo però veramente un pezzo particolare particolare per gli amanti ovviamente di spiderman quindi però da quello capito è un pezzo abbastanza atteso e apprezzato